Allora, intanto volevamo per concludere ringraziare tutti quanti, ringraziare il materiale che ci avete fornito. Tutte le foto, Efraim che ci ha rotto i coglioni per tre anni a questa parte, da quando ha scoperto come si utilizza la macchina fotografica. E da quando li hanno regalati, da quando li hanno regalati. Ringraziarvi per la compagnia, perché insomma... Tre anni che vi abbiamo rotto i coglioni sinceramente, siete stati bravi anche a sopportarci, esatto. Ci può stare, ci può stare. Volevo ringraziare anche mia mamma che mi ha messo al mondo, grazie, grazie mamma. La mamma di Alessio che l'ha messo al mondo. Bill Gates che ha messo al mondo il computer. Ecco, ringraziamo tutti quanti. L'ingegnere di Matrix che ha messo al mondo il... Matrix. Matrix. E ringraziamo Matteo che sta facendo le foto. Le foto, saluto Matteo. Prego. Niente. E adesso vi lasciamo alla fine di questo film. Alla fine, ai credit. Ai credit. E niente. Speriamo che vi sia piaciuto il libro lì, anche se non vi è piaciuto ormai siete stati lì. Vi l'abbiamo regalato per Natale. Esatto. Quindi ormai... E basta, penso che abbiamo finito qua, no? Sì, beh ringraziamo tua sorella. Mia sorella per... Ringraziamo Giulia Wannameson. Salvador Dalì, ti ringraziamo. Esatto. Abbiamo Saeed per averla messa al mondo. Saeed per averla messa al mondo. Ma questa cazzo di video io la tengo per anni. Quando ci sarà mia moglie che... Che cazzo è Saeed? Ma che ragione? Tanto ne so, avrò ti. E chi ti sei in coda ti dirà. No, 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 no. Poi, vabbè, quando lo vedranno i figli e i nipoti, quanto deficienti siamo. Gioi. Stiamo facendo una conclusione che doveva durare tre minuti. Cioè, tre secondi, due ore e mezza. Va bene. Finiamo così? Finiamo così. Grazie mille. Ciao, ciao. 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 Ciao.